Niente strada, allora le intitoleremo una piazza. È stata questa la risposta che i sostenitori cremonesi di Oriana Fallaci si sono dati dopo che la commissione toponomastica del Comune ha bocciato una settimana fa la loro proposta, avallata da 130 firme di cittadini, di dedicare una strada di Cremona alla grande scrittrice giornalista del Corriere della Sera. Così, questa mattina, Piazza Roma è divenuta per qualche ora piazza Oriana Fallaci, staffetta partigiana, giornalista e scrittrice. È quanto si legge sull'insegna scritta a mano e affissa simbolicamente su uno degli alberi all'ingresso dei giardini pubblici dedicati a Papa Giovanni Paolo II. Una protesta silenziosa che si è fatta sentire lontano, trasformandosi in polemica politica a tratti anche aspra. Ma ormai la decisione è stata presa e per ora Cremona e le sue vie dovranno accontentarsi di personaggi la cui morte si perde nella notte dei tempi e i cui nomi siano legati maggiormente alla sua storia di provincia.